Intorno alle 14.30 di quest'oggi un operaio 36enne è rimasto ferito mentre movimentava un muletto nell'area esterna della Setramar. Dalle prime ricostruzioni confermate da un collega che ha assistito alla scena e da un addetto alla sicurezza, sembra che l'operaio abbia effettuato una manovra errata causando il ribaltamento del mezzo. Il giovane, ferito ad una gamba e ad un braccio, rimasto incastrato dalle lamere del muletto, è stato soccorso dagli uomini del 118 in ambulanza e lì soccorso. Le condizioni dell'operaio non sono sembrate gravi ed è stato ricoverato all'ospedale di Ravenna.